47 Grimaldi il più giovane da Gioia del Colle può partire subito dopo Pepito il più anziano alla sua prima cincana Grimaldi il piedino è emozionatissimo sente tutta l'attenzione scusa Pepito vorrebbe andare anche dopo e non distrugge tutta la pista ragazzi commissari fate passare la moto grazie io direi che merito un applauso alla sua prima cincana è emozionatissimo la più difficile strette degli angoli strettissimi un percorso da un metro prepariamo un applauso prepariamolo merita incoraggiamento bravo sette penalità adesso abbiamo il nostro Pepito con un grandissimo Vespa GS di che anno è la Vespa Pepito? 63 25 ottobre 63 il padrone 25 settembre 29 benissimo del 39 chiuditi il casco però diamo l'esempio a tutti grazie al nostro via Pepito un attimo carnevale numero 53 un applauso ragazzi questo dimostra che a qualsiasi età questo sport non fa male ci stiamo divertendo ci stiamo tutti divertendo anche Pepito abbiamo capito si 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 finisce Pepito la prova con la sua GS ci sono adesso alcuni altri partecipanti poi la prima match sarà finita abbiamo gli ultimi quattro abbiamo Pepito che comunque si vuole cimentare in questa prova è molto emozionato lui sente queste prove li sente molto noi l'abbiamo visto alla Tremari ed è una persona amabilissima di grande compagnia un grande atleta nonostante i suoi anni facciamogli un grande applauso è il beniamino di tutti i Vespa Club